Voglio un avvocato. Se tu fossi un uomo ti farei sputare sangue. Se tu fossi un uomo avrei paura. Ti sembrerò un faranone. Sei l'unico di cui posso fidarmi. Fatti use a una nuova associata. Qualsiasi cosa sia. Sistema. Devi aver visto qualcosa che non vogliono si sa. Scendi da quest'auto! Damages. In prima visione in esclusiva. Sono su AXN. Canale Sky 134. Grazie a tutti.